Paccard e Balmatt hanno conquistato il Monte Bianco. Voi considerate che per superare gli ultimi 117 metri di Disivello hanno impiegato solo 11 minuti, viaggiando a una media di 640 metri ora di Disivello, un valore altimetrico medio di salita. Ebbene, questo è un ritmo importante, soprattutto verso i quasi 5000 metri, dopo oltre 12 ore di cammino, siamo a 14 ore di cammino consecutivo, mosso su quei ghiacciai eccetera. Questo vuol dire che hanno fatto l'ultima parte un po' di corsa, un po' come se uno volesse un pochettino arrivare prima dell'altro in cima. Sta di fatto che gli va riconosciuto assolutamente questa loro performana anche finale, quindi non solo durante tutta la giornata della salita, ma addirittura anche bruciando gli ultimi, come dire, gli ultimi energie utili prima di arrivare in Cina per calpestare le vergini nevi del Monte Bianco. Ma quando loro arrivano in cima, intanto a Chamonix succede una cosa particolare, appena arrivato in cima, Paccard prende il bastone, ci lega un fazzoletto rosso e lo pianta, dentro nella neve. E chi lo stava osservando col telescopio giù da Chamonix, lo dice all'altra gente immediatamente, si circola la voce, che c'è un fazzoletto bandiera rossa in cima al Monte Bianco. È stato raggiunto il Monte Bianco e c'è una sorta di tripudio tra il nucleo di persone che sta osservando questa cosa qui. Tra queste persone c'è un personaggio che diventerà importante per noi nel futuro. Il barone von Gersdorf, che è accompagnato da un suo amico, è lì che lo segue col telescopio, con lui col telescopio e che lo mette a disposizione anche. Lui tra l'altro è un buon disegnatore, è anche un eccellente topografo, quindi ha una conoscenza molto vasta e sarà grazie a lui che avremo poi tutta una serie di rilievi e documentazioni importanti per poter raccontare poi la storia successivamente. Lo stesso barone, tra l'altro, nella sera medesima della giornata rilascerà una dichiarazione giurata al regio nottaio di Chamonix, il padre di Paccard che è andato in cima in cui certifica la salita alla vetta. Ma torniamo intanto alla cima del Bianco. I due, Paccard, mentre Paccard fa i suoi soliti rilievi con gli strumenti eccetera, che però si sono rotti durante la salita, i suoi rilievi risulteranno dare una quota che è errata rispetto a quella vera, oltre 200 metri più alta. Per fare queste cose qui ha le mani semicongelate, quasi non riesce, i suoi ganti in pelle si sono imbrattati tutti e allora si fa prestare, scambia un guanto con i guanti di pelo di coniglio che aveva Balmat, costruite appositamente per affrontare il freddo. Quindi avranno tutte e due una sola mano con guanto e l'altra inevitabilmente avrà un principio di congelamento, principi di congelamento che daranno non pochi problemi sia l'uno che all'altro. Si rendono conto che devono trovare un posto per bivaccare. Adesso bisogna cercare di iniziare a muoversi. Dapprima vanno verso il versante che dà su Courmayeur per vedere se dall'altra parte c'è un posto dove possono bivaccare, ma si rendono conto che non è così. Ritornano immediatamente e dal basso li vedono che si muovono attorno alle 18 e 57, insomma più o meno, un'oretta dopo, una mezz'oretta dopo circa essere arrivati in cima. Li osservano sempre col telescopio nella prima parte della discesa, si rendono conto che stanno andando velocissimo, superano velocemente tutti i tratti che hanno fatto in salita. Questo per due ragioni, sia perché sono in discesa, sia perché nel frattempo la temperatura si è abbassata sensibilmente, la neve si è compattata, non si sprofonda più. Questo però non evita il fatto che devono comunque aggirare con dei percorsi notevoli i crepacci più grandi. Lo fanno seguendo chiaramente le tracce di salita che gli permettono agevolmente di trovare l'itinerario e raggiungono con questo, con un po' di difficoltà, però la montagne della Cotte, più o meno un pochettino più in alto di dove hanno bivaccato in salita, la raggiungono solo a mezzanotte. Trovano un posto per bivaccare, uno si mette verso il ghiacciaio, paccard e quell'altro un po' più all'interno, si coprono con l'unica coperta che hanno e si sfregano vicindevolmente le mani, in modo tale da far riattivare la circolazione, con ovviamente dei dolori lancinanti quando arriva la circolazione, ma a un certo punto cadono sfiniti, comunque riescono ad addormentarsi qualche ora, alle primissime luci dell'alba scendono giù a Chamonix, si rendono subito conto che sono seriamente in difficoltà, perché il riverbero solare li ha bruciati, sono gonfi dalla quota, con gli occhi di problemi e in particolare paccard ha gli occhi talmente infiammati che ha una cicità temporanea. Cicità temporanea che lo costringe a scendere accompagnato da Balmat un po' come se fosse un cieco, nonostante questo arrivano a Chamonix e ciascuno va alla propria abitazione e paccard entra in casa, si butta sul letto quasi svenuto e rimane lì. Tutto questo è la conquista del Monte Bianco, eppure pensate, la conquista del Monte Bianco afferma dei principi fondamentali per l'epoca. Primo, l'uomo può stare in quota e la quota non lo uccide. Secondo, può affrontare il ghiaccio per salire, può dormire in può, insomma, finalmente si traghetta un'idea nuova dell'uomo con la montagna. Ma noi pensiamo che questa sia la conquista del Monte Bianco e che questa avventura finisca qui. Orbene, è finita solo la salita del Monte Bianco, ma quello che è il giallo della salita, cioè la Faire Mont Blanche, questo inizia proprio adesso e vi spiegheremo successivamente perché.